Salve, buongiorno, siamo al pomeriggio. Io invece torno un pochino con i piedi per terra e le chiedo questo. Come lei sa è in corso qui alla Camera un voto importante sul primo decreto che avete fatto voi come governo, sul decreto RAVE, RAVE, COVID e tante altre cose. Allora è in corso questa lunga, diciamo che c'è un tentativo da parte delle opposizioni di farvi ragionare, di far ragionare la maggioranza sull'opportunità di questo decreto che secondo le opposizioni contiene delle cose non così pertinenti. Una di queste sono queste misure sul COVID, alla luce anche di quanto sta succedendo, un'altra è sul RAVE. Quindi quello, il RAVE, anche perché in Italia ci sono 3-4 RAVE all'anno, insomma, quindi forse non è così urgente fare un decreto su questa cosa. La domanda che le volevo fare è questa, mi scusi se sono stata lunga, non crede, visto che lei ha tenuto così tanto alla centralità del Parlamento quando è stata l'opposizione, non crede che sarebbe utile dare un segnale in questo senso, invece oggi il governo metterà i tempi serrati su questa cosa, e quindi ci sarà questa benedetta famosa tagliola, sarà chiuso il dibattito, insomma la centralità del Parlamento che fine fa? E questo decreto è così importante per voi, per lei? Grazie. Scusi, ma nei circa dieci anni in cui io sono stata all'opposizione, le risulta che la maggioranza per segnalare la centralità del Parlamento abbia mai deciso di non convertire un suo decreto? No, però accadono cose nel frattempo. Mi perdoni, accadono? Accadono cose nel frattempo. Tipo? Nel tempo, ad esempio c'è un'emergenza Covid possibile nuova. Allora c'è un'emergenza Covid, scusi. E quel decreto contiene norme contro? No, quel decreto contiene una norma che riguarda il reintegro dei medici non vaccinati che anticipa un reintegro previsto comunque per domani. Si figuri su che cosa l'opposizione sta facendo l'ostruzionismo. Cioè, se noi non fossimo intervenuti, i medici non vaccinati sarebbero stati reintegrati al 31 di dicembre. Oggi è il 29. Signori, temo che, diciamo, non sia così risolutivo. Dopodiché, sulla vicenda del rave, non la pensiamo alla stessa maniera. Nel senso, uno, due, tre. Cioè, io considero profondamente, diciamo così, sbagliato vedere che da vario tempo arriva gente da tutta Europa a organizzare dei raduni illegali con spaccio di droga, violenze, in alcuni casi morti, devastazione di aree protette e compagnia cantante perché ci si divertono. Si è chiesto perché non si vanno a divertire in Francia? O in Germania? O in Spagna? O in altre nazioni d'Europa? Perché noi siamo quelli che lo hanno consentito. Ma le nazioni normali non consentono alla gente di devastare aree protette per divertirsi perché ci sono le discoteche. oppure puoi anche organizzare un bel rape party. Te lo organizzi rispettando le norme numerose, molteplici, alle quali segnalo che si devono adeguare le persone normali. Perché io ho sentito dire, ve l'ho detto in un'altra conferenza stampa, ma io non posso vendere gli arrosticini. Ma di che stiamo parlando, signori? Ma ci abbiamo presente le norme sulla sicurezza alimentare a cui si deve adempiere chi vuole vendere degli arrosticini in una manifestazione pubblica? O le norme sulla sicurezza del lavoro? O le norme che riguardano, che ne so, il pagamento della CIA? O le norme su... Sono tre l'anno in questo paese, re i partiti. E quindi vanno bene? No, è il primo decreto, insomma. E guardi, per me è già convertito, il primo decreto per lei sarà secondario, per me non è secondario. Perché? Perché è il segnale che mi interessa dare. Fabrizio, non c'è problema. È il segnale, noi siamo così. È il segnale che mi interessa dare. Il segnale è... È finita l'Italia che si accanisce contro chi rispetta le regole e che fa finta di non vedere chi le viola. Quindi, cari, simpatici ragazzi che volete ballare devastando aree protette, andate a farlo da un'altra parte. Oppure non lo fate in Italia, come non lo fate in Francia, non lo fate in Germania e non lo fate nelle altre nazioni. O almeno, non così curiosamente come da noi, perché noi li accompagnavamo con i pullman invece di andare a prendere le generalità di chi viola tutte le norme possibili e immaginabili. Ok? Quindi, io penso che sia invece una norma giusta e necessaria a dare un segnale. Dopodiché, Claudia, dicevo prima, attenzione, perché c'è il rave, c'è il Covid e c'è l'ergastolo stativo nella norma. Per cui, forse anche per questo, non so se, diciamo, dovrei ragionare, ma non intendo farlo. Cioè, considero molto ragionevole convertire il decreto, perché altrimenti ci priveremmo di uno strumento fondamentale nella lotta alla mafia.